musica Ciao a tutti e bentornati su Darkfallet Channel con un nuovo video con Metano il Tardo Ciao a tutti Siamo sul server inglese Ascraft che trovate qui sotto in descrizione e siamo qui a fare qualche mini gioco sul... come cavolo si chiama? eh... Sky Wars ok, da me notte sono nell'isola, sempre con i prati verdi io quella di prima sempre anch'io come c'è, si vediamo dove sei non si è scantato a me, non va bene a dire il vero io non ti vedo nemmeno, però... ah si ho che salto in fondo, vabbè c'è uno in mezzo a noi eh lo so che si separa e diracchiaxirbonicus proprio davvero? si si, purtroppo si ah... allora... allora Dark, in questa aperta qui ariamo ai nemici, proprio li ariamo ok, se l'ho deciso ci credo a voglia, a voglia, tranquillo ma non mi parte ma che ora è partito lagga un pochino mmm... sono andato a me o sono andato alla partenza, a dire il vero boh comunque... oddio... eh che merda che ho trovato però eh ti ho trovato qualcosa di buono? mmm... no una spada di ferro ah... allora... si vincerà sicuramente dai le scarpini in diamante però, c'è vinta ah, allora se c'è le scarpini in diamante, cioè... io c'ho la spada in ferro, dimmi che ci devo fare già c'è quello che sta prendendo da te Netano? no, 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 tu stai scherzando ho messato... ti sei buttato giù no, 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 non lo fare, non lo fare, non lo fare Netano, ammazzalo, ammazzalo, ti prego non ci riesco si, l'ho ucciso, l'ho ucciso ok ma questa è una batta di culo, due cuori eh, bastava una sparata l'ho vista già c'è uno che sta facendo la torre di pisa che non è storta però va bene vado, aspe, aspe io qua devo shoppare l'enderpearl ok se ho i soldi vediamo no, questo qua mi vuole buttare giù nooo non ce l'hai? non ho abbastanza soldi chissà perché che schifo eh, aspetta, là dove si può andare? tu sei sempre là o no? eh, sì, sto cercando di venire da te ma c'è uno che mi vuole male mi vuole buttare giù ok, allora io cerco di andare nell'isola accanto alla mia quale? che così dovrebbe essere un frocio aspetta, magari lo butto anche giù forse è l'hack, non lo so mmm, boh, che se ne frega io lo butto giù se posso ok no, ok, non l'ho beccato nemmeno una volta, è bella boh, vabbè, vado nell'isola qua e pace ma non ci credo quello che era accanto a me si è buttato giù ha fatto bene cioè si è messo l'acqua per non cadere ed è caduto giù ha fatto bene, cavolo cioè un genere trovate la gente che fa così, cioè magari fossero tutti così gentili proprio invece no, io gli becco sempre gli stronzi proprio tipo l'hack quello che era qua aveva lasciato alle medie dorate ma è tardio eh, non gli piace cioè non lo so che funziona vabbè, non gli piace stavo finendo giù stavo finendo giù attento c'è uno sopra di te nonmi ucciderai, nonmi ucciderai eh vabbè, era messo meglio, era messo meglio c'evo la spada ad oro io, fai te allora che faccio? che aveva lui? non so, io faccio il tifo per te poi, boh cioè, dai, ce l'ha poi fai quanti siete rimasti? ehm, in 3 compreso me ma c'è anche Sirbonicus merda no boh allora prova a lasciare contro uno di cattiveria e... contro quello che ti ha ammazzato no mi ha ammazzato non ci credo e l'ho lasciato due cuori sei pazzo aspetta mi butto ora chi se la sei? sono quella lancione sono si anche io quella lancione quindi siamo al posto vediamo dove è Sirbonico e Siltardo non c'è Sirbonico e Siltardo non c'è meglio meglio fidati che è meglio dobbiamo più gente di ammazzare minchia poi siamo nell'isola posto c'è uno che mi conosce ma lui si è una brava persona cavolo no no veramente meno male ho trovato qualcosa di buono tu invece? io tutto una spada tu c'hai una spada decente o no? di ferro vabbè meglio di niente tu? ok no perché se c'avevi tipo d'oro te ne passavo una io c'ho quella in diamante allora già c'è gente che si vuole male e si sta tirando le cose fanno bene fanno bene si devono arare tutti proprio sono tutti amicosi ah quello che era accanto a me si è buttato giù dall'isola gamer 5 ita ma perché quelli che c'è a tesi si suscitano tutti? non ha senso non vogliono affrontarmi e non ha preso niente dalle casse si mele d'oro sicuro eh scarpettini mi sembra un po' tardo un poco dai muorici l'ho buttato giù bella in realtà volevo tipo ucciderlo e non buttarlo giù dai che butto questo giù dall'isola si l'ho buttato uno giù ah ok ho visto uno cadere in effetti quindi tu sei là eh esatto sei là giuno sta facendo la torre oddio d'acqua ne è uno sopra si è buttato giù del morto ma perché? perché? no nell'acqua nell'acqua sta risalendo aspetta lo butto giù allora no no non lo farei ci penso io ma sta laggando ah ma è il mio fan vabbè ciao è stato molto simpatico no 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 se uno sta facendo la torre aspetta no no io non lo posso buttare giù ma devo mi dispiace ciccio devo buttarti giù è il mio dovere ancora non è l'acqua sta risalendo devo farlo devo farlo mi dispiace ciccio eh guarda che cosa c'è delle oddio guarda ora mi uccide anche se mi uccide quanto smatto quanto smatto muorici mi dà un aiuto c'è uno cattivo qui eh aspetta dark una cosa alla volta te li uccido tutti io tranquillo no guarda ora sparo un po' di colpi random se magari non glieli spari te me lo sposti e cade no non cade però c'era la possibilità c'era quasi c'era quasi sta facendo la torre buttalo giù buttalo giù non c'ho più colpi esatto nemmeno uno proprio potrebbe finire male questa partita a parte perché siamo quattro ma infatti anch'io me lo sono chiesto prima o c'è qualcuno nascosto dentro un'isola no ma è impossibile ma in realtà c'è morto quello che ho fatto scivolare giù non me lo vede quindi tecnicamente non ci dovrebbe essere c'è c'è sta volando no no veramente ah ok anche l'ho visto era sotto bugato era lui buon zogganzo si si era lui era lui allora aspetta è quello qua su però come cazzo si uccide è un casino con idee con idee intanto si sta sparando come sta sparando ah cavolo lui fa il lezzino c'ha le palline lì è caduto aspetta no le palline non penso aspetta io mi posiziono a modo così a me non mi può buttare giù ok perfetto è caduto giù l'ho buttato giù non ci credo no no è sotto di te no è infatti l'ho buttato giù eh vabbè aspetta con calma ora mega laggata ma solo a te lag eh buh non ho idea ho 40 ping aspetta no non ci vado ti aspetta dal ponte ci butta giù metano no senti tu ogni volta che ci vai ci muori male quindi fa mica andare a me aspetta guarda come si fa aspe quello lì aspetta eh che te l'ho detto guarda tattica si fa allora guarda guarda come il lezzo fammola tirare giù la canna da pesca guardalo guardalo no no dai vai indietro vai indietro ah l'avevo preso sono tattico io guarda no no metano si 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 guarda pidati che nessuno mi batte su queste cose qua si 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 ammazzo aspetta aspetta facciamola legit la cosa è uno scontro leale vai via vai via ma che ci ho perso no no la cominciamo dai il via te anzi via ok questo aspetta qua anch'io non vagono le palle né le cose le uova cose così eh no eh vabbè la canna da pesca comunque la merda lì dai muorici non se legge guarda come ti sciotto ti sciotto ti sciotto come sei finito laggata cittone no no cittò ha laggato ha laggato si si va tu ti scuse qui qualcuno è più p di te vai lezzo starso ok sono un'elisola puffosa tu io ho quello di funghi ok ti vedo ok ma dove sei te io non ti vedo guardi sto saltellando davanti a te dove c'è guarda adesso ma sei lezzo ma io qua muoio c'è troppa gente cattiva attorno a me beh shop allora non ho i soldi no come no e le spriati per la cosa di ferro e vabbè ma quanto hai ora e non lo so come si vede e scrivi una cosa in chat scrivi idee non lo so 8 attenzione ricco qui qualcuno è ricco spada di diamante non mi ha trovato un po' di armatura per fortuna però alla fine niente di che quindi mi sa che ci crepa un po' male no non puoi eh non c'ho la spada cioè c'ho la spada che è fatta di fango e merda fai te buono però almeno c'ho l'armatura completa allora devi vinto cioè manca poco fa più danno lascia con sharpness che la spada fai te vediamo qua come sono messi uno si è buttato giù quello che era accanto a me sì ma boh sono tardi qua non lo so non ci credo vediamo se questo qua riesca a buttarlo giù ma no è ancora quella all'isola è full diamante come full diamante ah scherzavo no scherzavo ma perché pigli per il culo così non lo so ho buttato giù dall'isola sì ho buttato uno giù allora dar che io qua sono nella merda ho buttato un altro giù sì dar che sono nella merda uno sta avvenendo da me non ammazza di tu non so cosa fare aspetta vediamo se ammazza il testo aspetta vai se pigiavo shift no tipo non me lo facevano leggere il nome vero attraverso i blocchi si vede meno ok perfetto è vero mi ha sgiamato vediamo se ce la faccio vediamo vediamo no mi ha ucciso mi ha ucciso non ce l'ho fatta come faccio ho l'armatura e c'aveva la spada lui non c'avevo c'aveva la spadina di merda lì aspetta boh ci provo ci provo eh provaci ne ammazza di due quindi nessuno gli può fermare ma perché quanti siete allora 4 oddio in teoria ce la potresti anche fare allora non c'è nessuno anche se non te si si poi ci mori ci mori ma poi aspetta ce l'hai lontani o vicini vicini allora rasciali di cattiveria addosso tipo fai il peggio ma c'è gente con tante palline uuu tante palline ma in che senso no raccontamela bene sta cosa ma dai questo qua non muore mi ha ammazzato no che ragazzi il video venisce qui qua c'è me danno il tardo basta dalla descrizione che c'è il suo link qui c'è un teletubbies no devo prendere la tua schiena shiftiamolo 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 uuuu teletubbies e niente ciao 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 ciao